per la tutelazione e benvenuti in questo settantesimo episodio della nostra masterly con l'inter su vispro evolution social 2 signori prima di partire il video vi ringrazio per i like per i commenti presenti e per il supporto che stai dando a serie ea canale vi ricordo di iscrivervi perché ho sempre bisogno del vostro aiuto per crescere allora ragazzuoli prima di partire il video altra altra cosa sto registrando sempre rabbia successione come non mai succede da un paio di settimane perché giustamente per vari impegni personali e lavorativi signori però lasciatemi sempre tanti i commenti perché io poi durante la settimana me li recupero e rispondo o ne seguo i vostri consigli detto questo non perdiamo tempo signori partiamo con il video di oggi e vediamo un attimino di riprenderci dopo lo stop nello scorso video a caso del celsi in cui abbiamo pareggiato 1 a 1 partite in cui sul finale abbiamo sbagliato un paio di occasioni con babangida che porca miseria porca miseria allora io direi di mantenere sempre lo stesso schema così appena poi cambieremo l'interprete signori vedremo un attimo anche di cambiare di seguire i vostri consigli di cambiare un attimino schema e di cercare anche di essere più offensivi chi è più alto porla metti morlander centrale vediamo se riusciamo ad avere più copertura al centro col col con l'omone alto e lungo giochiamo contro la fiorentina che prima in campionato signori fiorentina che prima in campionato sarebbe buono ottenere magari un pareggio quantomeno così da rallentare i viola nella loro corsa al alla promozione riuscissimo a rallentarli un attimo sarebbe importante come cosa signori perché così sia loro rallentano sia noi recupera perché se c'era valeri che da dritto per dritto e l'avrebbe buttata fuori perché questa questa cacata però va bene però va bene stiamo calmi calma e sangue freddo parte tra persone centrale bravissimo questa volta valeri a prendere le testa palla arriva babangida 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 decide di partire babangida vince fisicamente contro a henrick la prima volta forse attenzione arriva pure di livio attenzione babangida babangida sulla fascia babangida rientra babangida babangida cattarola come vecchi tempi come tempi della roma se l'è fatta tutta quella fascia dai così dai così grandissimo babangida parca miseria batte toldo dopo cinque minuti inter 1 fiorentina 0 allora questo è ottimo signori perché diciamo un gol di vantaggio già attenzione no ho sbagliato ho sbagliato volevo mandare in profondità castolo e invece non lui non ha capito assolutamente niente di quello che doveva fare anche qui non stiamo capendo niente di quello che devono fare bravissimi 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 se doveva essere la triangolazione babangida non ha seguito castolo ha fatto un colpo di tacco inesistente inutile ecco come questo passaggio mannaggia 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 riusciamo a trovare un compagno di squadra libero ci riusciamo ok cellini cellini no 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 va bene rimessa nostra rimessa stiamo giocando bene signori stiamo giocando bene stiamo giocando bene non non emozioniamoci non emozioniamoci guardalo va bene altra rimessa da dare per noi dai dai calma 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 relax calma relax sono in due sono in due babangida babangida dove cazzo non la fa babangida signori mamma mia perché certe volte è così tanto rincretinito però babangida trova benissimo l'inserimento perché non l'ho tirato subito perché non l'ho tirata subito mamma mia che gran pallone che gran pallone che grande inserimento attenzione attenzione grave gravissimo gravissimo gravissima attenzione attenzione riesce a partire il traversone buono così no fuori gioco meno male meno magine siamo stati salvati da un fuori gioco senti da butti sotto buttala 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 sì butta la profonda perché no 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 non mi fido più signori di questi attenzione che non no notto non me l'aspettavo non me l'aspettavo non mi aspettavo non mi aspettavo che il pallone arrivasse a babangida signori non mi aspettavo decisamente che il pallone arrivasse a babangida aia 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 bravissimo ivano con calma calma relax respira 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 e facciamo le cose per bene non andiamo per via centrale perché sono rischiosissime valeri mio valeri mio non mi puoi tradire pure tu valeri valeri mio non mi puoi tradire pure tu però valeri mio guardalo guardalo grandissimo babangida parte è un contropiede buono signore è un contropiede buono era un contropiede buono era un cazzo di contropiede buono va bene calcio d'angolo calcio d'angolo calcio d'angolo calcio d'angolo va bene va bene battistuta la battuta battistuta la battuta calma 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 matt bravissimo e lì non la prendiamo mai nella vita ok calma 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 bravissimo guardalo a babangida babangida siamo andati a chiuderci fra due giocatori è logico che dai che fuori dai che fuori dai 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 sarebbe buono trovare il 2 a 0 signori col 2 a 0 non dico che ci addormenteremmo però no 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 non lasciate spazio va bene va bene col 2 a 0 non dico che però però 2 a 0 e però se sbagliamo i passaggi quelli fondamentali cazzaro di una miseria se sbagliamo i passaggi fondamentali bravo bravo bravissimo bravissimo e no è troppo più questo guarda no non mi ha fatto mandare l'input del passaggio non mi ha fatto mandare l'input del passaggio perché non doveva partire sto pallone non mi ha fatto mandare l'input del passaggio gioco baggato mannaggia ai tempi già era un gioco baggato questo porca miseria infame bravissimo guardalo ok vattene babangida vattene babangida li abbiamo bucati li abbiamo bucati sulla difesa li abbiamo bucati sulla difesa bamba li abbiamo bucati sulla difesa bamba agita con il fotocopia del primo signori e l'inter si porta sul 2 a 0 porca miseria no signori c'è babangida lo posso mettere pure a giocare al centrocampo ma a lui gli piace la fascia non c'è niente da fare babangida piace la fascia signori e ci porta sul 2 a 0 buono così buono così signori 2 a 0 2 a 0 ora dobbiamo riuscire a rimanere concentrati e a tenere il risultato riuscire a rimanere concentrati e a tenere il risultato il 2 a 0 è buono però ricordiamoci la partita con l'itz se non ricordo male la partita con l'itz signori che vincevano attenzione attenzione babangida 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 no perché non mi ha preso l'1-2 secondo voi perché non mi ha preso l'1-2 perché è un gioco bastardo perché sapeva che di babangida se ne sarebbe andato da solo davanti il portiere perché non mi ha preso l'1-2 perché non me l'ha preso secondo voi secondo voi che era un'azione fatta un'azione fatta era come questa come questa che riparte babangida come questa che riparte babangida signori chiudiamola chiudiamola signori chiudiamola chiudiamola facciamo 3 gol fotocopia no babangida era troppo sbilanciato era troppo sbilanciato e forse dovevo guardare anche al centro guardavo al centro avremmo fatto un bel assist e un 3 a 0 pulito un bel assist e un 3 a 0 pulito invece non ho guardato al centro ho voluto fare sempre l'esolidazione con babangida e non ci siamo riusciti non c'è la palla era mia non te la vorrei dire ma la palla era mia però va bene fai tu fai tu fai tu fai tu fai tu non dico niente non dico niente fai tu formazione allora il cambio spostiamo dal solito miranda per babangida e ripartiamo dai così dai così dai così 2 a 0 signori 2 a 0 non facciamo cretinate come contro il litz signori ve lo chiedo per cortesia ve lo chiedo per cortesia ci servono non solo tre punti ma ci servono i punticini del mercato signori non ci servono i punticini del mercato e ci servono i punti in campionato soprattutto quindi non facciamo cretinate signori non facciamo cretinate vi prego ve lo sto chiedendo col veramente ecco ivanov grandissimo grandissimo calma tenele 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 le gol di vantaggio sono sono oro colato signori sono oro colato sono oro colato vai bamba vai bamba parti come un treno vai bamba vai bamba va in bamba rap cam non può essere più velocità e babangida cazzarola non sono riuscito a sterzare non sono riuscito a sterzare bravissimo qua l'azione bravo bamba bravo bamba che non ha mai niente se si sta ritrovando a giocare su quella fascia babangida signori e però cazzarola grande babangida grandissimo babangida guadagniamo un calcio d'angolo importantissimo un calcio d'angolo importantissimo che non riusciamo però a giocare bene valeri no valeri mio glielo è data a lui tienilo tenele 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 intanto la palla ritorna lì sull'uomo di fascia batistuta ivanov grandissimo va bene così 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 calma calma relax calma relax 2 a 0 contro i primi in classifica e tanta roba babangida lanciato come un treno babangida 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 cerca l'assista porca miseria annaggia 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 grande questo intervento bellissimo questo intervento cercato bolatta bolatta che cerca babangida babangida annaggia ma questa volta ho sbagliato io signori ho cliccato prima ho cliccato prima volevo cercare la triangolazione e non mi è riuscita ho sbagliato io questa volta questa volta non posso dare l'errore al videogioco perché ho sbagliato io grande ivanov grande ivanov siamo al diciottesimo signori siamo al diciottesimo lancialo bravissimo ancora poteva essere lanciato meglio ma babangida gli sta bene babangida gli sta bene signora babangida gli sta bene sterzata calcio d'angolo va bene invece di sterzata è fermato del botto attenzione babangida lo fa fuori babangida no no cercato metto cercato metto fuori e fuori e fuori e fuori rimessa nostra vai così buono 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 giorga attenzione teniamo teniamo babangida babangida riparto ancora su quella fascia il bamba il bamba il bamba il bamba il bamba come ai tempi di roma il bamba il bamba non mi chiede cosa ha fatto fuori chiesa dentro con sostituzione strana attenzione babangida fa fuori torricelli e riparo torricelli in velocità però lo recupera in velocità secondo me di fisico mamma mia che brutta palla ho con attenzione appena entrato a posto di chiesa mamma mia valeri cosa ha salvato signori ivano vera andata fragole ivano vera completamente andata fragole palla fuori ok 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 iorga con calma iorga 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 no ufff ivano cosa ha salvato ivano ufff miracoli di ivano signori miei miracoli di ivano vera dove trovarli miracoli di ivano vera dove trovarli poi l'inter riesce a ripartire con babangida in contropiede in contropiede babangida annaggia ha fatto il passetto di troppo ho fatto il passetto di troppo con con babangida buono il pallone il pallone è per matt 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 che l'esce a passarla a castolo castolo vede l'inserimento di babangida babangida no non mi chiede perché babangida ha fatto due ha sbagliato il movimento babangida no non c'è andare non c'è andare bravissimo stesil stesil in copertura suo con al trentottesimo calcio d'angolo per la fiorentina calcio d'angolo per la fiorentina parte il traversone dai niente da fare 2 a 1 pierini pierini che cazzola di quello abbiamo preso signori c'eravamo cioè boh non lo so non lo so al trentanovesimo signor al trentanovesimo al trentanovesimo trentanovesimo vediamo il gol del 2 a 1 al trentanovesimo quarantunesimo quarantaduesimo ci serve troppo questa vittoria signori ci serve troppo questa vittoria e babangida lo sa signori babangida lo sa ma sbaglia quarantaquattresimo attenzione metta non riesce a regolare sto pallone attenzione attenzione alla fiorentina attenzione alla fiorentina fuori sto pallone albitro 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 cortesemente fischi la fine della partita albitro no 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 albitro 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 cazzarola fischi albitro Ivanov Ivanov e tua non me ne frega niente non me ne frega assolutamente nulla finisce qui finisce qui signori Inter batte la fiorentina 2 a 1 battiamo i primi in classifica importantissima vittoria signori importantissima vittoria il Dortmund pareggia e recuperiamo 2 punti sul Dortmund importantissimo importantissimo importantissima signori 2 punti recuperati sulla fiorentina e 2 sul Dortmund che è la seconda in classifica doppietta di Babangite su Assis di Miranda e Cellini mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia l'ho detto mamma mia andiamo a 28 punticini signori niente male niente male rimaniamo quinti rimaniamo quinti a 16 punti ma gantiamo il Litz che è quarto e la fiorentina scende al secondo posto a pari punti col Dortmund quindi sono entrambi i primi e i secondi a 22 punti li abbiamo a 6 punti signori e non è per niente male il sogno promozione continua ad essere reale il sogno promozione continua ad essere reale se pensi abbiamo perso la prima partita contro il Marsiglia 4 a 0 e ora il Marsiglia è ultimo a 9 punti porca miseria comunque signori detto questo vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti presenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao ciao ciao